Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Lucky Sfida Mod con Emerald Allò Ragazzi, oggi non c'è nessuna novità, quindi andiamo subito a parlando dei nostri lezzissimi Lucky Block E cominciamo... Cosa... Che problema c'hai? Tano, guarda, guarda IA! Smettere di cittarti la cosa! Che fai... Non posso tenerlo questo? Ma tieni te lo che cazzo... Frega, è verità No, uh! Ah, ok, ho sbagliato, stavo subito a prendere quelli normali Ma a me è andata bene, ho trovato subito, subitissimo, una spada da 7 di danno Tutti si è buttato Tano? Ah, ok E me... Ma tanto, cosa me ne frega? Dopo l'ultimo episodio come ho trovato sia la minigun che... tutto? Cioè, ormai... Mito sfatato, possiamo trovare la minigun Eppure, le munizioni esplosive Oh, ho trovato... L'Aeron Golem e la... L'ho visto, il Moon Pet Sei stato fortunatissimo No, basta con sti cosi Mi stanno già sul cazzo, lo sai? Cioè, è una cosa incredibile No, M M, allora Allora, M Stammi lontano con quell'armatura di merda lì Ho già avuto brutta esperienza con te No, non posso, non posso fare nulla Ti ho salvato, Tony Non è vero Ti ho salvato Dove mi hai salvato? Mi hai ucciso te Sempre mi sei divorato da un SCP Avevo una spada Potevo salvarmi Allora, M Tu vai lì Fatti cazzi tu con quella roba lì Io vado totalmente dall'altra parte E mi cerco le mie cose, va bene? Tanto... Ah, aio, aio Ok, non ho bisogno di te, Emerald È brutto da dire, lo so Indubbiamente sì Ma io voglio farmi... Voglio farmi i miei cazzetti proprio Da un'altra parte E... E tipo... E tipo... Non ci vedremo mai più Ci vedremo allo scontro, Emerald Oh, oddio mi hai fatto... Perché sei qui? Perché mi ha ciucciato l'esplosione Ma non sei se sei l'altra parte, Emerald Tano, ero qua Mi hai ciucciato Sì, sì Ma mi sei lontano, per favore? Possiamo stare un pochettino lontani a Emerald? No, perché ora non voglio dire che non voglio più essere tuo amico O robe sì, quindi però Comunque un po' di distanza Mi... Mi opprimi un pochettino Cioè, non so se... Scusa, scusa No, no, no No, no, tranquillo, tranquillo Però... A distanza Uomo, ho distanza Va bene, va bene Ma... 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 Ma Tano... Ma Tano? Posso farmi una foto con un Lucky Block in bocca? Beh, ma un Lucky Block motion O un Lucky Block duro? Beh, oddio Dipende da Lucky Block Se piace o meno Ah, ok Boh, comunque hai sceltato qua Eh, io però sono un pochettino in difficoltà Mannaggia sti cosi Eh, ma... Banana, salvami Lo sai, comunque... Eh... Sì, sì, sì La banana è OP comunque, seriamente Cioè, per uccidere un tipo 20.000 spadate Ci sono dato di... Di banana Gli ho tirato un pochettino di volte in bocca E subito... L'ho distrutto Cioè, è troppo, troppo OP Cioè, io penso... No... Oh, bananito Oh, munizione espositive Ho trovato l'SCP 96 Eh, per una... La prima volta, forse Da quando me l'ho trovato Proverò a usare La... La cosettina Per intrappolarlo Tano, se si tilt Spacchi i blocchi comunque Te lo dico Oh, shit, roli Ah! L'hai fatto tiltare Sì, ma stavo morando anch'io Penso che morirò No, Tano D'altronde È la mia fine, uomo No, Tano Arrivo Non lo... No, non venire Non venire E ce l'hai dietro E quell'ammasso che c'è dietro No, veramente Non spacchi i blocchi Eh, però Ho visto che prima Stavo uscendo, sai Perché ti vuoi presente Quando sono bloccati Eh, vabbè Ma che cavolo Ah Ho fatto uno splat Sì, sì, sono io Ho finito Ma come l'ho finito Ah, eccolo qua Non l'ho finito L'ho spostato e basta Beh, però sì È rimasto laggiù in effetti Quindi... Quindi cosa buona No, 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 no Basta che non ti fai esplodere, Em Basta che non ti fai esplodere No, 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 no Ho fatto esplodere Ora fallo Se sei lontano puoi farlo, uomo Ok, ok Perché avevo ancora dove farlo Allora, guarda Io per queste evidenze qui Mi tengo il pet Che spara le palline L'arma E anche le mini turtle Ok? Ok, vabbè Se ti insegue Vabbè Se ti insegue Se ti insegue Ah Ma porca Volevi Volevi Scusami, eh Scusami se non me l'aspettavo Che un mio amico Si comportasse in questo modo Nei miei confronti Allora, intanto Prendi le distanze Ok? Allora, io volevo soltanto Le distanze fisiche In game Lo sai che in real Vorrei abbracciarti tutto Ok? Ok, va benissimo E averti Ok Più vicino Ok Non ho detto nulla di male Ok Em, io ho trovato un'armatura Ma mi manca un pezzo Mi fa non è vero Ho trovato tutto E ti sto aspettando qua sopra Per prendere gli lucky block belli Eh, uomo Sai com'è? Mi hai ucciso Mi hai ucciso Sto tornando Brutto Lezzo che non sei altro Comunque no Ci sono quasi Aspetta E che l'igma Mi rallenta I movimenti Anche sai com'è? Dove sei? Qua sopra Ti aspetto Qui sono Ma Ah, ok Ok, non ti vedevo Eri un po' lontanino Hola Emerald Ciao Allora, ti ho aspettato Dai Oh no Oh, ma guarda come si sono messi Oh, carino Cosa? Aspetta Mettiti Fai un'esplosione accanto ai ragni E ma i lucky block? Non esplodono Ah, che belli Oh, guarda quanto è l'esperienza Che belli Davvero Non sapevi Che lucky block Eh, non mi ricordavo Eh, vabbè, vabbè Le ho aperti quasi tutti Non c'era un cavolo dentro Che schifo Che schifo Già Beh, oddio Aspetta, non ti apro Questa armatura qui è buona oppure no? Che cazzo è stato? Oh, cosa? Che cazzo è stato? Bro, allora Io ho un problema Questa cosa qui mi succede di notte Prima in te Oh, è stato un giochino sul telefono E un mondo mi fa partire rumori a caso Te lo giuro Io stavo giocando al computer Non lo so Stamattina tipo Cioè Mi era perdita tutto il volume così Dopo la sveglia Mi stavo quasi Cioè Mi stavo riaddormentando Mi riprende la moto Tipo Ma che cazzo è? Uomo Non lo so Non Lo devo disinstallare Ma va Tano Suicidi per tre volte Tre volte? No Uno al centro Oh, è vero Ho visto, ho visto Ho visto Eh, vabbè, dai Considera che prima Tipo tre o quattro volte di seguito Mi erano usciti Le pistole Le pistole blocchi Che ok Lo apprezzo per le munizioni Però Sì, però Tano Non per dire Ma io non sto andando più Armi Armi Ma vuoi un'arma? Sì No, intendo più Ah, i fucili I fucili Eh, perché i fucili sono molto molto rari Anzi, ragazzotti Una domanda per voi Vi piacerebbe vedere i fucili un pochettino meno rari? Perché attualmente sono soltanto drop leggendari Drop leggendari sono le cose più potenti in assoluto Oh cacchio Ti salvo anch'io Quindi ragazzotti Stanno solo per morire Stanno solo per morire Stanno solo per morire No, eh Esplodi, esplodi, esplodi Quindi ragazzotti Fateci comunque sapere se vorreste rivedere qualche armina un pochettino più buttata nel comune Ecco Molto semplicemente Detto questo Eh, sì Finiamo di aprire tutte le cosettine Io penso che tra un po' mi aprirò i miei fortunati Perché qua Oh Anche io Anche io Contro i nemici Quella che dà fuoco Perché il danno che fa è veramente minimo E praticamente fa tutta la skin buggata Cioè non è buggata È tutta la skin infuocata E a me non piace per niente Te lo giuro Quindi io evito sempre di utilizzarla Però Però c'è Però c'è effettivamente Apro gli ultimissimi, eh Però i blocchettini non li voglio lasciare qua Un pochettino me li prendo Oh, moon pet pure io Questo è il primo che trovo da quando abbiamo cominciato con questi lucky blocco nuovi, eh Il moon pet, per chi non lo sapesse ancora ragazzotti È un pet bellissimo Che appunto, come ci dici anche qua Fa una gravità inversa Quindi Non so se posso definire effettivamente antigravità Una roba Però vabbè Gravità inversa Ovvero che gli oggetti invece di cadere a terra Volano in aria Per i mob e gli item Quindi ragazzotti Oh mio Dio Eme No No Mi sono circondato Ma non me ne ero accorto E se mi si E lo Boom Eme Ergastolo Comunque Mi apri l'acqua Perché fortunati Dai Vediamo se mi esce qualcosa No, 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 no Orca troia Che dolore che mi fai E vabbè Mi uccidiamo Banano Ok, il banano mi salva Oh, incredibile Il banano Veramente mi dà soddisfazione assurda Dai, no Tocca ora anche a me apirli Sì, sì Ma intanto li so Aprendo un pochettino anch'io Eh, vabbè Guarda, guardali Porca troia Muori Ok, hai morto Tano Ho visto Ho visto, ho visto Eh, signor Ormai che abbiamo sdoganato questa cosa Ti pare che non c'è Ah, vabbè Ogni volta Subito dopo Mi hai dato le emulsioni esplosive di noi Ma no, abbiamo trovato un bordello Tanto quindi sti capoli Eh, medikit Molto, molto buono Il medikit va sempre comodo Mi piacerebbe trovare Anche effettivamente Oh, ho trovato La spada leggendaria Che ho appena trovato Ok, bellissima Ho trovato un creeper pet Il creeper, oh, non era mai uscito il creeper pet Lo sai? Mai, mai, mai uscito Oh, vabbè Vabbè, oh, anche a me Non ci credo, bro Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il creeper pet è la tua stessa cosa dell'armatura Capito? Sì Non ricevi danno le esplosioni E... Tra l'altro Non ricevi danno le esplosioni in generale Quindi, eme Facciamo un test Fatti E... Fatti esplodere accanto a me Fatti esplodere Avendolo nell'inventario Non ricevo più danno alle esplosioni Di nessun tipo Anche da esterno Quindi Se tu mi esplodi accanto Io non crepo E oltretutto Se clicco con il destro Ovviamente La faccio pure io l'esplosione Quindi, cavolo Ultra buona come cosa Eme Qua ho trovato dei cosettini E una spada che ti vorrebbe interessare Fa 10 di run Quella spada Se non ricordo male La puoi Ah E' vero E' vero Esplosa Esplodono Esplodono Oh mio dio Ehi Cano guarda Io ho la spada infuocata Ma comunque per fortuna Ho un po' di minigun E un lanciarazzi Sì Il lanciarazzi L'ho trovato Ma è vero Oggi Uomo È andata Strasfigata Da quel punto di vista Io ho il lanciarazzi E la spada Ottima spada Eh Però non abbiamo trovato Né un lanciamissili Né una Nulla Nulla Soltanto la minigun Di armi normali Esatto Esatto Ok Va bene Sono un po' Stralibito Per questa cosa Perché non era mai successo In assoluto Ma ok Va bene Io sono pronto per lo scontro Non è vero Ok Non sono ancora Però andiamo su Liberiamoci l'inventario Carichiamo le armi E cominciamo dai Va benissimo Va benissimo Eme Io stavo caricando le armi Ma sono già arrivati qui a piccarmi Aiuto Ok Io mi sono messo anche cose extra Cioè praticamente siamo contro questi Aspetta Mi faccio esplodere Oh Oh No 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 Non ci credo No Tano Cosa ho visto Non ci credo No Eme Non ci credo Eme Non ci credo Ah eh sì Siamo contro Siamo contro Tipo questi qua Ma penso si sia notato Io stavo ancora sistemando il mio inventario Tano E ci hanno attaccato un botto Tano E rip Gli hai fregati Come li hai fregati Moonstone Oh Cavolo È vero Cioè io non me ne ho fatto in tempo per dirti a sistemarmi tutto Oh Siamo attenti Bravissimo Bravissimo Io li banano Ah cavolo lo scudo però così me lo finisco Ce la fai te a fare qualcosa No Dino Moonstone Ah no Oh Tano i boss gigantesco Eh l'ho visto L'ho visto Ma non l'ho fatto in tempo a fare nulla Bravissimo Eme Bravissimo Ok Ne ho eliminati alcuni Purtroppo non pieno nemmeno da onda la caduta Questo è il fatto Aspetta Pieno nemmeno da fuoco però eh Ok Questa qui rientra nelle scene più belle che abbia mai visto Ma Eme ma cosa Ma cosa Guarda la tua positiva Uh la sopra la mia Lato positivo è che sono morti tutti ed è rimasto soltanto il boss Che Cioè Cioè Già i piccolini senza toccare il boss ci hanno già ucciso Oh Emerald Ok A me hanno preso alla sprovvista praticamente Però Oh Cosa Oh La tua armatura Eme Oh Eme non ti avvicinare Non ti avvicinare Non è per armatura Oh Questo l'ho finito Provo di A parte tu c'hai Ah No Da Wither pure lui Da Wither leva un botto di vita I piccolini levano fuoco Lui leva un botto Eh Allora Idea Lo faccio volare Lui dando la cotta lo dovrei prenderlo perché il boss non vola Lo facciamo volare Guarda che idea Guarda che idea Bella Tano Mi è piaciuta Mi è piaciuta Dai Non ci va Non ci va Aspetta Yes l'ho fatto Non ci va Oh No No Allora aspetta aspetta Guarda Lo faccio volare E poi lo tracco Oh no I missili I missili I missili Anche lui Anche No uomo Hai visto Anche i missili subiscono l'effetto del pet Oh ok Tano Eh ma dov'è finito scusa Sopra l'albero sta Eh Sì Sta sopra Tano Tano c'è uno piccolino No 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 Due due piccolini Ma sai che l'ha spawnato lui Ah no questo era quello grosso Oh mio dio Te lo giuro Eme sono ritardato Fino a qua non ce lo sapevo Però fa un botto male questo qua Vai 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 Ok No Stavo per finire nella mia trappola Non ci ho fatto caso Aspetta Eme Idea Facciamolo volare un'altra volta in aria Mentre lo faccio volare Tu gli vai sotto Lo spingi più in alto possibile In modo che prenda più danno possibile Dalla caduta Ok Va bene Vai 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 sotto Vai sotto E spingilo su Più che puoi Eh non c'è problema Missione fallita Tantissimo Abortire uomo Abortire Eh il problema è che è uscito fuori dalle mura Già Io non so quanta vita abbia lui Però considera una cosa Io Ho un botto di Aspetta Cosa Aspetta Non sto guardando Aiuto un attimo Dai è scomparso Come è scomparso Sta arrivando È scomparso Forse lo sai che è morto Da l'anno di caduta Dalle mura Era qui dietro È morto È morto Eh sì Per forza Aspetta un attimo Mi faccio una torretta Mi alzo in giro Perché Se lui non c'è È morto per forza Sì È morto Da l'anno di caduta Avrà preso magari Quel mezzo danno Quel qualcosa Esatto Esatto Ti l'ho ucciso Ok Perfetto Un po' triste Il fatto di non averlo visto Però vabbè È andato a fare dalle mura Che ci vogliamo fare Vabbè Finale triste comunque Emerald Finale triste Sì